Per poter creare un foro all'interno di un tetto multipiano, in Archicad abbiamo due possibilità. La prima è quella di andare a selezionare il tetto, toccare il bordo esterno del tetto e selezionare il comando Sottrai al poligono. Se vado ora a disegnare il foro, Archicad andrà a creare un foro all'interno del tetto multipiano. Il secondo modo invece è quello sempre di selezionare il tetto, ma in questo caso andiamo a fare un clic sulla linea cardine. Andando a selezionare sempre il comando Sottrai al poligono, ho la possibilità di creare il poligono all'interno del tetto. Il risultato che vado ad ottenere però non sarà un semplice foro, ma la creazione di ulteriori falde.